ciao a tutti ecco c'è la settimana che vale al 10 al 16 giugno il caldo è arrivato un po dovunque e noi iniziamo questa nostra decorazione stavolta sarà di un personaggio che ho conosciuto tramite aliexpress circa cinque anni fa e che in italia è arrivato l'anno scorso credo ho diverse cose di molang però ho pensato di usare questi nastri non li ho ancora usati perché li ho solamente essi nel nella mia agenda di dove metto tutti i washi tape paper tape eccetera eccetera quindi saranno questi come al solito io scrivo già i giorni per essere più veloce quindi mettiamo subito quello per proteggere i fori è un paper tape proprio molto delicato quasi trasparente infatti si stacca anche abbastanza facilmente senza che attire via il il foglio così e adesso mettiamo la parte superiore non so se i colori cambiano sempre un po un color pesca diciamo e questo è un classico color fragola per dividere i giorni ho pensato a queste foglie questo sono tutte fogliette sembrano palloncini quindi Ho scelto queste foglioline perché la scorsa volta avevo messo nella decorazione Bing dedicata a Rebecca, la piccola della mia amica Sabri, anche lui era un coniglio, è un coniglio, quindi per variare un po' il tema delle carote, insomma così ho pensato le foglioline perché comunque sono colorate, perché le carote e la cima hanno delle foglioline, insomma così. Riguardo questo paper tape mi è arrivato da poco, fa parte di un set e prossimamente farò un video shopping creativo. Di Molang ho diversi adesivi, però ho pensato di utilizzare questi nella scatoletta, io ho già scelto quelli per l'agenda di Snoopy, quindi devo cercare di utilizzare quelli che non ho utilizzato lì. Ecco, mi li metto così, così, vedete che carino. Ho scelto questi, ora andiamo a posizionarli. Allora, credo che questi bastino perché erano rimasti questi, però mi sembra che poi siano risulti troppo pieni. Mettiamo nell'agenda E scriviamo i giorni, quindi partendo da lunedì 10 Ecco fatto. Allora, credo. riguardo l'agenda di stupi stesso protagonista io spero di avervi fatto una compagnia colorata e vi auguro una buona settimana e alla prossima ciao a tutti ciao ciao a tutti ecco c'era alla settimana è un proprio un paper tape dove ecco adesso mettiamo scusate perché si sta spostando un classico colore arancio sono tutte foglie colorate se trovo il bandolo dove di molang o diversi aspetta togliti togliti faccio vedere sono carinissimi prendiamo l'agenda per ricordarmi